Oggi no, io sono lo sposo con una rosa e vi uccido tutti. Io sono il mago cattivo e vi risfruttirò. Io sono il mago e vi combatterò con le mie mani. Io uccido, dà che mi ho una paletta e rincerco che io vi faccio un portino buono. Grazie. Non mi piace il cucino. Io sono il desultato, io sono il desultato, io sono il da. Io sono il bastano. Io sono il nostro più, il nostro più, il nostro più. Cos'è perché? E per il pad, e per il pad, e per il pad, e per il pad. Ma perché rimane fissa? Perché rimane fissa? Ah è una bella domanda, si è bloccato il computer. Vado a vedere. Andiamo a vedere.